Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione su Telecittà. I dati del bollettino Covid Veneto di oggi dimostrano il trend in continua flessione verso il traguardo della zona bianca previsto per il prossimo 7 giugno. Nelle ultime ore sono stati registrati in Veneto 63 nuovi contagi e due decessi, un crollo rispetto ai 175 casi della rilevazione precedente e anche dei 107 del bollettino del primo giugno. Confermate inoltre la diminuzione ormai costante da settimane dei posti letto occupati in ospedale. Attualmente i malati Covid ricoverati sono 611, dei quali 539 nelle aree non critiche e 72 nelle terapie intensive. Scende anche il numero dei pazienti positivi in osolamento domiciliare 7700, ovvero 52 in meno. Fondi pubblici della Regione Veneto alle associazioni dei cacciatori per contrastare il braconaggio, finiti anche in patatine, pizzette, prosecco di rinfreschi e buffet. È l'ipotesi sulla quale stanno indagando in Veneto la Corte dei Conti e la Guardia di Finanza. Si tratta di 262 mila euro erogati nel 2018 dalla Regione Veneto alle associazioni venatorie, che in piccola parte, riferisce il gazzettino, sono finite per pagare salatini, pizzette, sfoglie, bottiglie di vino e acque e altri prodotti per rinfreschi. Le fiamme gialle hanno chiesto gli atti alla Regione. Adesso, di quei contributi finiti in prodotti alimentari, si sta interessando anche la Corte dei Conti. Erano stati alcuni consiglieri regionali a chiedere chiarimenti sulle spese sostenute dalle associazioni venatorie con i contributi pubblici. Cambiamo argomento. Giornata cotica ieri 2 giugno per quanto concerne il traffico. Situazione con conseguenze che si fanno sentire anche nella giornata odierna. Il servizio. Traffico intenso questa mattina sulla rete autostradale gestita da Autovie Venete. I volumi di traffico registrati, spiega Autovie, sono determinati dall'arrivo di vacanzieri dall'Austria in occasione delle festività del Corpus Domini e dalla ripartenza del traffico commerciale dal centro-est Europa dopo lo stop dei tir di ieri per la Festa della Repubblica. Sono diversi, osserva la concessionaria. I turisti stranieri che hanno scelto le località balneari del Friuli Venezia Giulia e del Veneto per trascorrere qualche giorno di vacanza, tanto che fin dalle prime ore del mattino sulla A23 i transiti sono risultati molto intensi. E ciò è coinciso con la ripartenza del traffico commerciale dei mezzi pesanti sia provenienti dall'Austria sia dalla Slovenia e dai paesi dell'est Europa. I flussi di transito, conclude Autovie, restano ancora elevati in particolar modo lungo la direttrice della A4 Venezia Trieste con code e tratti tra Villes e Nodo di Porto Gruaro. È attraccata all'alba la stazione marittima di Venezia la MSC Orchestra, prima grande nave da crociera a riprendere l'attività con partenza dallo scalo lagunare dopo il lungo stop causato dalla pandemia. L'imbarcazione, 92.409 tonnellate di stazza lorda per 2.550 passeggeri e 1.050 membri di equipaggio è entrata dalla bocca di porto del Lido intorno alle ore 5 e ha effettuato le manovre di attracco all'arriva alle 6.20. Il tragitto in laguna è invariato rispetto al passato, passando per il bacino di San Marco e il canale della Giudecca visto che non sono ancora stati progettati o predisposti gli attracchi alternativi previsti dall'ultimo decreto trasporti quello provvisorio a Porto Marghera e men che meno quello fuori dalla laguna per cui occorrerà un concorso di idee internazionali ancora da bandire. Lungo il passaggio in laguna, oltre che da tre rimorchiatori, la MSC Orchestra è stata scortata da due motovedette della Guardia Costiera. Per la partenza della crociera, prevista sabato 5 giugno alle ore 17, sono state annunciate manifestazioni di protesta da parte dei comitati non avi, ma anche di sostegno da parte del coordinamento tra gli operatori portuali. Rimaniamo a Venezia, nella città lagunare e in tutto il resto del Veneto, il turismo sembra aver trovato la chiave della ripartenza. A Venezia chi si è concesso la gita fuori porta si è mischiato con i primi turisti, molti provenienti anche dall'estero. In gran parte si tratta di turisti italiani, ma si contano anche 10.000 stranieri per il 20% tedeschi, per il 15% francesi, poi sfizzeri e austriaci. Venezia riparte, ha scritto per l'occasione il sindaco Luigi Brugnaro. Benvenuti a tutti coloro che hanno scelto la nostra città comportandosi con rispetto. Oltre 100.000 presenze, un buon inizio di stagione dunque per quello che Zai ha definito l'anno d'oro per il Veneto. Vedo i dati delle prenotazioni dei turisti in Veneto che stanno incrementando decisamente e quindi dico venite in Veneto perché rischiate di mancare solo voi. Città d'arte colme di turisti, lunghe code per raggiungere le località balneari e incidenti che hanno provocato ingorghi nel 2 giugno di molti vacanzieri o pendolari. Complice il bel tempo, con temperature estive, la festa della Repubblica per tanti Veneti è coincisa con la prima tintarella in spiaggia. Pieno tutto il litorale veneziano. Continuiamo a parlare di turismo. All'appello della stagione turistica Veneta mancano circa 6.000 lavoratori, circa la metà dei quali sono figure specializzati e difficilmente sostituibili. Secondo il presidente di Federalberghi Veneto, Massimiliano Schiavon, si tratta di uno degli effetti di lungo periodo del Covid-19 che ha spinto molti professionisti del settore a trovare lavoro altrove, spesso in cui con parti che meno hanno sofferto le conseguenze della pandemia. Dopo un 2020 drammatico dal punto di vista occupazionale con decine di migliaia di lavoratori a casa, spiega il presidente, ora ci troviamo paradossalmente nella situazione opposta, quella di non riuscire a trovare professionisti. Molti, soprattutto tra le figure più specializzate, si sono trovati costretti a cambiare mestiere, magari trasformandosi in autisti per mantenere le proprie famiglie. Il risultato è una grave desertificazione di competenze. Cambiamo ancora argomento. Mega incendio domato dai vigili del fuoco a Minerbe, in provincia di Verona. I dettagli nel servizio. Vigili del fuoco veronesi impegnati per un grosso incendio dalle 18 di ieri, 2 giugno, a Minerbe, in via Ronchi. Un fienile con circa 2.000 quintali di fieno ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di mercoledì 2 giugno. Sul posto sono giunte squadre dai distaccamenti di legnago e caldiero, oltre a mezzi provenienti dalla sede centrale. Da subito gli sforzi dei pompieri si sono concentrati a contenere le fiamme e a salvare le 500 mucche ricoverate nella stalla annessa al fienile. Le operazioni di spegnimento sono proseguite tutta la notte e questa mattina sono iniziate le opere di smassamento e messa in sicurezza dello stabile. Attualmente sul posto squadre del distaccamento di legnago supportate da Autobotti di Verona. Venerdì 4 giugno alle ore 11.30 nel cortile della scuola professionale Engin Veneto Scaligera Formazione in via Berardi a Verona si terrà l'evento conclusivo del progetto educativo Lotta alle Mafie, svolto dai ragazzi che frequentano le classi terze nella scuola in collaborazione con Roberto Fasoli, componente della commissione consultiva di avviso pubblico. In occasione dell'incontro inoltre domattina saranno inaugurate la panchina contro le mafie e il giardino del coraggio, dove ogni albero è intitolato a una vittima di mafia e sarà curato dai ragazzi per tenerne viva la memoria. Saranno presenti alla manifestazione il sindaco di Verona Federico Sboarina, la dirigente della prefettura Anna Grazia Giannuzzi e il direttore della redicondazione Contabilità Formazione Professionale e Istruzione della Regione Massimo Toffanin. Inaugurato a Saunara un nuovo punto vendita della catena Ali, sempre più legata alla realtà del territorio veneto. Il servizio. Taglio ufficiale del nastro di inaugurazione del 115esimo punto vendita del gruppo Ali, che darà lavoro a 50 collaboratori locali. A conferma del sostegno dell'economia locale sono stati stretti rapporti di fornitura con numerose aziende del tessuto locale, tutti i nomi che appartengono alla storia della cultura e delle tradizioni. Forte anche l'impronta green, ne fanno da cornice 252 piante e oltre 200 rose. L'edificio è stato costruito con tecnologie per ottenere il minore impatto ambientale possibile. Il punto vendita è dotato di un impianto domotico e sfrutta il calore di recupero dei banchi frigo per produrre acqua calda. L'illuminazione è full LED. All'inaugurazione sono intervenuti il responsabile degli affari generali Matteo Canella, che ha salutato e ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile l'apertura di questo nuovo punto vendita. Il sindaco del comune di Saunara Walter Stefan e Don Francesco Monetti della parrocchia di San Martino di Saunara, che ha concluso la cerimonia con la consueta benedizione. La Femi CZ Rovigo è campione d'Italia di rugby. Nella finale scudetto giocata ieri al plebiscito di Padova ha battuto per 23-20 l'Argos Petrarca, che giocava in casa avendo vinto la stagione regolare della Top 10. La finale scudetto del rugby si è risolta a tempo scaduto e in pratica il titolo è stato assegnato dal videoassistente dell'arbitro. Il Petrarca Padova era avanti 20-16 quando all'ottantesimo Griff, che nel Femi CZ Rovigo aveva preso il posto di Lubian al diciassettesimo del secondo tempo, è riuscito a schiacciare sulla linea di meta. L'arbitro Mario Smitre ha avuto dei dubbi e ha chiesto l'intervento del television match officer Stefano Roscini. In un silenzio surreale la decisione è stata per la meta. Il pubblico rodigino è esploso, i giocatori del Petrarca si sono messi le mani nei capelli e i tre fischi di fine match hanno proclamato Rovigo campione d'Italia col punteggio finale di 23-20. E chiudiamo come di consueto dando un'occhiata al meteo. Fino a domani alta pressione. La caratteristica meteorologica saliente sarà l'aumento delle temperature fino a valore prossimi alle medie nelle ore notturne e sopra la media in modo leggero moderato nelle ore diurne. Da sabato una depressione attualmente sull'Oceano Atlantico porterà varie piogge fino a lunedì. Il tempo di oggi cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso su rilievi e zone limitrofe di pomeriggio a tratti parzialmente nuvoloso con piovaschi rovesci o temporali sulle prealpi e sparse sulle dolomiti. Le temperature sono in leggero moderato aumento rispetto a ieri, prossime alla media stagionale. Grazie ancora per il gentile ascolto e vi auguro un buon proseguimento di giornata con Telecittà. Grazie a tutti.